Le vostre esigenze di storage aziendale stanno crescendo più rapidamente di quanto avreste mai potuto immaginare. Oltre alla necessità di espandere lo spazio per i vostri dati, garantirne la protezione costituisce solo parte della soluzione. È qui che si rivela fondamentale il sistema operativo iOmega EMC Lifeline. Lifeline è un software di gestione avanzato creato da EMC, leader mondiale in sistemi di gestione delle informazioni. Ciò significa che tutti i prodotti della nostra linea di soluzioni di storage NAS dispongono della potenza di EMC integrata, ad un prezzo conveniente. Pensate a Lifeline come a un motore ultrapotente che alimenta tutti i vostri dispositivi di storage di rete iOmega Store Center. Offre gestione dei file, funzionalità di server multimediale, complete funzionalità multipiattaforma, nonché protezione dei dati integrata, RAID compreso. Lifeline supporta le funzionalità specifiche necessarie per gli utenti aziendali. Lifeline viene inoltre fornito con iOmega Personal Cloud. L'interfaccia semplificata e la facile configurazione agevolano la creazione di una rete privata e consentono un controllo completo sui contenuti e l'accessibilità degli utenti. Si tratta di qualcosa che le altre applicazioni cloud pubbliche e private proprio non possono garantire. Il processo di configurazione per il sistema operativo iOmega EMC Lifeline è semplice e richiede il minimo impegno, senza compromettere funzionalità o prestazioni. Il dispositivo di storage è infatti in grado di rilevare e configurare automaticamente le impostazioni di rete, in modo da ottenere ed eseguire le applicazioni in pochi minuti. Inoltre, può essere gestito quasi da qualsiasi postazione della rete, da qualsiasi dispositivo collegato con il supporto del browser. E grazie a iOmega Quick Protect e Time Machine, gli utenti possono eseguire il backup dei file secondo le proprie necessità. EMC Lifeline combina la potenza e l'affidabilità di due giganti del settore e costituisce la base delle soluzioni di storage di rete iOmega. Scoprite in che modo EMC Lifeline è in grado di offrire protezione dati, gestione dei file e le funzionalità di server multimediale di livello enterprise necessarie per il successo delle aziende.